Ma qua leggevo trasera il libro di Bruno, c'è una pagina in cui, credo sia ottobre, dove Zingaretti ti dice in pratica, insomma è complicatissimo stare con loro, fa già capire la difficoltà, adesso li continua a fare un po' un pompiere, Zingaretti nel rapporto con il Movimento 5 Stelle, secondo te supporterà di far sempre pompiere? Ma insomma, lui è una persona molto moderata, molto mobilitata, io l'ho sentito prima dell'Umbria e dopo l'Umbria, come ho sentito anche Di Maio, l'Umbria, lì hanno fatto un errore, io glielo ho detto prima, ma non è difficile mettersi insieme, è stato un errore clamoroso, perché in Umbria il PD avrebbe avuto una dignitosa sconfitta, gli era successo un pasticcio, mettersi insieme al governo appena nato, 20 punti di stacco, non se ne aspettava nessuno, ma è stata una tragedia, però anche nella sofferenza del dopo Umbria, Zingaretti mi ha spiegato, io ho fatto questa alleanza, un'alleanza di sistema, voglio andare non per Renzi, Renzi ha fatto nascere il governo perché non era pronta la scissione, voglio fare una cosa, facciamo la manovra finanziaria e andiamo al voto, cosa che probabilmente potrebbe succedere, sempre per l'inziazione di Renzi, ma lasciamolo stare. Zingaretti disse, io mi devo mettere con questi, che sono l'opposto, voglio costruire qualcosa, a cominciare dalle regionali, sono partiti malissimo, stanno proseguendo peggio perché, insomma, la decisione che ha preso il Movimento 5 Stelle di andare da solo, diciamo che proprio non è molto amichevole, per cui il povero Zingaretti che aveva fatto con una visione politica, ha detto, facciamo una sinistra, un polo di sinistra contro il polo di centrodestra, ma adesso non mi pare che funziona. Ma guarda, guarda.